Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati finalmente con un nuovo video ma soprattutto una nuova serie Siamo ancora vivi! Infatti abbiamo avuto un lungo periodo di fermo diciamo, in quanto non abbiamo avuto alcun gioco su cui fare video ma anche dei problemi diversi, non volevo dirlo però Impegni vari, impegni vari Comunque il gioco di cui tratteremo oggi, non so se può dire è Train2 che è un, non so, è un gioco indie è un indie infatti e che ci ha interessato davvero tanto in quanto è bello comunque Cioè ogni secondo abbiamo giocato i primi secondi e abbiamo detto ogni cosa Oh mio Dio, no guarda, oh mio Dio si sta... Infatti già che nel menu principale si può casseggiare in questa maniera Già fa capire un po' Poi ci sono in pratica questi tre personaggi Si che può cambiare Che saranno i tre personaggi principali della storia Esatto Quindi noi potremmo impersonare uno dei tre personaggi Mi sembra che con ci si possa cambiare però noi siamo Si 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 lo sto facendo, si può cambiare Si può cambiare? E quindi la storia principale da quanto abbiamo appena... Così sentito, ho capito? Appurato Si, perché abbiamo giocato solo i primi secondi quindi... Niente di... Ehm... Dice... Dice... Ci sono questi tre eroi che vanno alla scoperta... Nella loro foresta succede qualcosa di magico E quindi vanno alla scoperta di una storia che li porterà avventurosa, avventurizzante Sì, dopo questa bellissima presentazione di Luca ci vediamo in gioco Bella Ok, rieccoci Rieccoci Allora, in teoria dovremmo essere due però, beh, all'inizio è così Sì, adesso usciranno praticamente dalla pancia Dal cammino Vabbè Ehi, ehi, ehi Tornado Harry Potter Harry, sono venuto per portarti a World's E' arrivato il bambano, il bambano Bambano, bambano Bambano, bambano Stavo dormendo Cosa c'è questa luce? Oh mio Dio Who's there? Who's there? Eccolo là, guarda che fiero, vestito giallo No, non si può cambiare No, non si può cambiare Via Ah, sono il capo dei ca... Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Basta, ti faccio vedere io Tu prova, Osa Osa, Osa, Osa Osa, Osa Osa, Osa Osa, Osa Osa, Osa Osa, Osa Dove stai? Dove stavi? Non ci stava la bolla Ah, 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 ah Sì, ce l'ho fatto tu, però Ah, ah Aspetta, fammi arrivare là sopra, fammi arrivare là sopra Voglio arrivare là qua sopra Che è sta roba vai via Ah pure una cosa là sopra c'è guarda L'ho presa Eh chi c'è rinco Vabbè quella basta che Non cade eh Aspetta ma lui ci deve arrivare non mi interessa Il posto della vita Lasciala lasciala No ma che cadevo vaffanculo Vabbè dai Non soffermirci su queste soffermazioni Non so se state notando la fisica di questo gioco è fantastico Beh il gioco Ah 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 ti ho visto Prendi lui Bravo Ah ahia Che cosa stai facendo? Vedi cerco Cascano quasi dal cielo Là si può arrivare Ma io la luce si addentrò nella foresta guidando a Mateus che la seguiva combattuto tra meraviglie e timore Si sta seguendo questa luce Vabbè vatti a Luca Non sa cos'è Devo salire in questo momento Devo fare un peso aspetta Devo fare un peso aspetta Oh cazzo Oh cazzo Devo fare un cucchiaio sta cosa Che cosa stai facendo? Qua la frega te la frega Quindi Abbiamo giocato fino a qua noi Da un'ora in poi non abbiamo idea di cosa succede Oh Dio Oh Dio Eh anche noi Guardate come è arrabbiato Ehi Tutto fiero Ah questo qua è il 2 forse sarà un Sì Oh Dio Che brutto Oh Dio No io non voglio essere qui Amadeus fai i bagagli dobbiamo salvare il regno Oh non ci penso nemmeno Poptius Oh no è vero non c'è nessuno Ma che stai dicendo? Benzognaro Doppiatore Ah no quella sera Poptius Pilatus Posso uccidere il pollo? Cioè non so se vedete la grafica Cioè che la grafica per essere un gioco Che è Che tende a gesto Oh che cosa ho fatto? Non oserai più venire nel mio regno Bellissimo Ah doppio salto Doppio salto? Come doppio salto? Come si fa? Ah tipo tenere premuto Ah ok Vedendomi Vedendomi Ah vedendomi Sembrava Eh sì Devo non essere scappati Ah No no c'è È fantastica È troppo palco Sei troppo ciccio Oddio Ah 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 Non me l'aspettavo Cos'è questa Una palla Queste sono le palle della foglia A cambiarmu Ah Oh Questo non lo sapevo Guarda come cammina Brrrr Oh cazzo Che succede? Questa ruga Testo oggi nei Yagi Eh Yagi Che significa Yagi? Questa è un nuovo yogurt Forse Chi la conosce è un Dio Che dobbiamo Oh che voglio Che voglio Ah 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 Io certo faccio Vi faccio vedere io Sono Pontius 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 Pilatus Contro i denti di leone Ah ah Dove vai? Che azzarda Che dobbiamo fare? Oh no la luce bianca della luce Ooooo Sì Aaaaaaa Sì Questa è un'altra cosa Sì 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 alla sera ahah finalmente lo percepito eh spero è una scuola al riparo della luce della luna, non è vero, io a vedere cos'è stato? a aujourd'inizio ah Pietnice fatto il tappo dal maggio esigo sapere dove il tappeto mangio dove il mago? come si arriva la? cos'è stato che faccio? guardalo sei un mago no sono una magessa che sta c'è qua sotto? aspetta che sono rimasto bloccato dove sei? non riesco a prendere il coso col piccolo ok come un sussurro non è vero se facciamo un casino soprattutto tu che è oddio dove sto da? con le vecchie tra un po' escono con i secchi d'acqua sei con un po' di... calma dove sei? ma poi c'erano le scale semplicemente non è che è difficile sono le scale lo so anche io infatti l'ho preso ah però è bella questa cinta guarda questa montagna si appendono aspetta guarda che devo appendere veramente ah ho capito beh usano le mie tecniche anche il gioco usa le mie tecniche come vanno a prenderla però comunque l'ho trattata cretino sembra un cretino non ti sono arrivato prima di te ma la mia... no lo fa la salita figa cos'è beautiful? ah si ah ecco come si fa ah sto arrivando come si fa? ah eccolo qua per saltare più in alto si può camminare posso saltare? posso camminare sui muri? ma io non capisco perché dovrei arrivare ah ah il vero il tren ma tutti questo tren ah no rocchetti da ladra vabbè si conoscono già dal primo capitolo del gioco che noi non abbiamo già fatto e naturalmente noi siamo sempre coerenti ah ah vabbè una nuova avventura nuove cose nuove cose con un c'entrano con Beck insomma ah gli eroi e l'avventura stava per iniziare sì sì beh questo sarebbe ristorante ma adesso ciò di ovviamente immaginare favolosi tesori chi avrebbe trovato quindi moriamo adesso tutti si ah adesso svegliamo con attenzione perchè ah no fantastico no veramente la grafica a parte queste foglie qua in brio piano non mi piace proprio eh fanno molte foglie e mi fissano ok felicitazione nooo sono la ragazza ok io allora voglio il mago ti lascio avere no questo qui no ah ah no bastardo te l'ho fregato te la provo a prendere due guarda cosa succede ahahahahah ahahahahah ahahah ahahah c'è un bastardo no adesso non ti perderò mai tu ma che dobbiamo fare qua? dobbiamo andare avanti è finito! e devo salire che vuoi? oh io non ci arrivo mio, aiuto! che ancora pensi alla troll che ti ho fatto? si! vabbè adesso sto parlando ops prendilo ma sai sei proprio un genio tu vuoi fare il rampino tu hai il rampino ma dove mi devo appigliare? poi non so, appigliati qua va eh, dondolami e qua va dondolami mmm aspetta c'è un coso lassù tu cosa sei? quanto siamo drogati stasera cosa 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 secondo me Zoya want to change character sicuramente guarda come si dovete prendere? oh wow 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 bellissimo crescono le pia- oh oh io non ci credo no non ci posso credere no 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 bellissima sta cosa no questa è da non credere questa cosa vabbè ma ti va eppure è un gioco indie eh io ho sempre detto che... vai luca prendili tutti ho sempre detto che i giochi indie a volte offrono molto... l'esperienza molto più bella dei giochi normali giochi diciamo... sei una merda luca cosa? sei una merda perchè? manco uno ne hai preso ho capito manco uno che fai? non mi costruisci la strada bastardo che c'è qui? è bellissimo io mi nascondo dai 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 poi sicuramente questo c'è lo zampino di nvidia physics qui quest'acqua ovvia oh 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 le maccione vengono anche sulle patate ehi ehi i riferimenti scabrosi scabrosa non c'entra proprio nulla con questa riferimenti ruvidi vabbè non lo so volevo salire la sola i riferimenti scabrosi proprio non c'entra eh 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 dovevo salire qua? tendo bene ho distrutto questo con il ciccione quindi ma che altra arma c'ho? ah solo questa eh anche io qui c'è qualcosa qualcosa altro a prendere lì guarda dove? vabbè fregati ma cazzo ehh qu strengths ehh bravo sicuramente non era questa la mia intenzione Che cos'è? Cosa so ste cose? Ah, ci vuole cicciano Sì, sì, ho capito, però non capisco cosa so sti... Scusa, vabbè, andiamo Vai là Oddio Che dobbiamo fare qua? Beh, non lo so se... Non c'è quello grosso, ok? All'attacco Ma io che ci devo fare con questi? Gli posso tirare le gabbie Oh, no Ma questo è un nessuno qualcosa Quando è andato li uccido Vabbè, ma tu me le rompi le gabbie, sei Vabbè, dai, chi se ne frega Oh, invece c'è un bambino Io non ne ho poche abbie Invece ce ne ho Wow, ne ho tre Lancio martello No, io voglio vedere il mago che fa Levitazione mostro Questo non è Acquista potenziamento Ah Dove è il mago? Posso fare levitare il mostro adesso Ah, sta a posto Aspetta, quando faccio cadere quella cosa Ma guarda che sistemi, guarda Funzionano Testati Ma ne faccio una gigante Andiamo Come hai messo l'equilibrio Oh Te cattote in faccia, l'ho visto Oddio, San Che gioco epico Via Hai scenso Oh Dove è, vati Madonna, San Sei terribile Impissato Ah Cade sempre Io credo sempre Perché sono Minecraft Che cade sempre No, vabbè, comunque Sono passati i giochi 15 minuti Quindi è meglio terminare adesso Eh, spero che questo gioco Comunque questa serie vi piaccia Perché questo gioco è stato epico A dir poco Questo gioco è epico Se ne volete Comunque continueremo Fino a finirlo tutto Se volete Basta dircelo nei commenti Se non ce lo dite Non lo faccio Oh Ma tanto non lo faccio Sì Eh, detto questo Ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Alla prossima parte E da giudicato è tutto Bella Bella Ciao